E' stato inviato a tutte le scuole abruzzesi di ogni ordine grado il bando del premio Lector in Terra Letti, quintino festival dei lettori alle falde della maiella nel cuore del bacino minerario, promosso dall'officina del deputato Luciano D'Arfonso in collaborazione con l'associazione V, la Fondazione Europa Prossima e l'associazione Pietrarca Conviviale. Silvia Elena Di Donato. Dopo l'edizione zero dello scorso anno ecco il bando per la prima edizione del premio Lector in Terra Letti. E' un premio pensato per i lettori dedicato alla lettura. Pensare un premio per i lettori significa concorrere alla costruzione di una grande comunità di lettori capace di ritrovarsi annualmente attorno alla parola, allo stimolo intellettuale della lettura e ad una grande comunità umana costruita attorno alla parola. La parola è la prerogativa dell'essere umano, è lo strumento del pensiero. E allora costruire una grande comunità di lettori significa dire che oggi la lettura e la cultura sono le più importanti infrastrutture di cui abbiamo bisogno per creare una connessione umana capace di dire che la libertà è un processo che va alimentato, che va alimentato con la partecipazione, che è capace di dare un contributo serio, consapevole alla cittadinanza attiva. La lettura ci consente di immaginare mondi, di creare legami tra noi, di esplorare possibilità nuove. Ecco allora che è la lettura che ci unisce e che ci consente di creare delle prospettive. Quando si svolgerà la manifestazione e soprattutto dove? La manifestazione si terrà il 7 e l'8 di settembre nelle piazze e nei larghi di Letto Manoppello. Sono previste iniziative culturali di varia natura, quali presentazioni di libri, concerti e poi lo spazio dedicato proprio al premio, alla restituzione personale che ogni lettore condividerà del proprio rapporto costruito con i libri scelti per la rassegna di quest'anno. Ci sarà un garante d'eccezione che per ora non svegliamo. Nel dettaglio i testi selezionati dalla direzione del premio per il 2024 sono per gli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado Rodari, Gelsomino nel paese dei Bugiardi, per gli alunni della scuola secondaria di secondo grado Salinger, il giovane Holden, per i giovani sino ai 30 anni Umberto Eco, il nome della Rosa, per le persone sino a 70 anni Bello Erzog, per le persone che vivono l'età della saggezza, sapienza, l'arte della gioia.